Avanti c'è posto signori, avanti, avanti senza spingere, avanti, biglietto ah! Un biglietto per favore! Subito signora! Quanto è? 40 lire! Non ce li ha i contanti! Non porto mai i contanti con me! Ma roba! Non porto un biglietto se trovi i soldi in tasca! Ehi! Ma quelle mille lire le ha tolte di tasca a me! Oh scusi sa, ma qui si sta così ammassati! Ecco i soldi, ecco i biglietti, i conti li farete poi quando scendete, va bene? Portarsi atti per favore, vai! Di chi ha questa mano? Ti rive la mano? Di chi ha? Aia! Dico che maniera! Buono! Ti rive la mano, no? Mi ci metto almeno un biglietto! Grazie! Mi dia i soldi! Un momento! Un attimo, scusi! Ecco, tenga! Aia! Aia! Il troller! Gino! Scende a mettere sul troller! Va bene! Ci mancava anche il troller adesso! Permesso per favore! Permesso che mi devo attaccare al troller! Permesso per piacere! Devo scendere! Permesso! Permesso? Scusi la spinta, madame! Permesso! Scusi? Ma se non scendo io non si parte! Scusi la spinta, madame! Scusi! Scusi! Capirai? Sono anche a miope! Scusi! 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 Allora mi faccia passare per piacere! Permesso! Vai Giovanni che vai bene! Avanti c'è posto! Biglietto, signore! Biglietto! Portarsi avanti! Verso la cabina del monopratone! Portarsi avanti per piacere! Avanti verso il pilota! Avanti! Gioi Giovanni! Avanti c'è posto! Biglietto! Ti ha fatto il biglietto! Ma non si agita! Si calmi! Si calmi! Non vede come ha caldato! Muoversi fa bene! Si espellano le tossine! E poi... Visto la maglia? Movimento! 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 Movil! Movil! La maglieria della salute! Perché? Perché mantiene costante la temperatura del corpo in ogni stagione! Movil vi difende dai reumatismi! Perché? Perché svolge un benefico massaggio triboelettrico! La maglieria Movil è praticissima! Perché? Perché si lava con acqua fredda! Asciuga rapidamente! E non si deve stirare! Movil! A prezzi controllati nei negozi che spongono queste insegna! È un prodotto Montecatini!